sei andato a fare una passeggiata con il tuo cane nella natura incontaminata per scoprire che non è poi così incontaminata hai cercato chiarimenti e supporto ma nessuno ti ha ascoltato collabora con noi è facile pensi di non avere le competenze o l'attrezzatura giusta non credere che solo con strumenti professionali si possa realizzare qualcosa in questo tutorial ti mostreremo come partecipare con i mezzi a tua disposizione al progetto noi no grandi opere imposte puoi fare le riprese con una telecamera una macchina fotografica un tablet o uno smartphone se non cancellai chiedi a un amico ricorda un amico è sempre utile da avere con te per un buon risultato filma tutto ciò che ritieni interessante con riprese panoramiche e particolari non dimenticare che i dettagli sono molto importanti per immagini più stabili procurati un cavalletto mandaci una tua testimonianza con la nocività di sfondo è importante che quello che dici si capisca bene quindi non usare il microfono della videocamera o dello smartphone ti consigliamo un microfono lavalier con un cavo che ti permetta sufficiente libertà di movimento si trova facilmente e costa pochissimo inseriscilo nell'ingresso cuffie se non c'è la presa dedicata e attaccalo al colletto riprendi di giorno e cerca di non bruciare oscurire troppo l'immagine così si vede la persona e lo sfondo se non sai come regolare l'immagine lascia tutto in modalità automatica quando registri l'audio evita le zone troppo ventilate o rumorose in quanto risulterebbero davvero sgradevoli se vuoi inviarci un servizio fotografico puoi mandarci l'audio a parte o semplicemente un testo di commento quando sarai arrivato a casa vittorioso scarica il materiale sul pc apri transmedia.eu e accedi con le tue credenziali al web documentario inviaci la tua testimonianza video o di documentazione scritta cliccando sul tasto suggerisci che troverai per un argomento non ancora affrontato nella pagina principale se invece sono approfondimenti o nuovi risvolti di un territorio nel menu locale o in una specifica testimonianza intorno a te continuano a decimare i campi e a costruire mega opere che la cittadinanza non vorrebbe avere la tua testimonianza la tua partecipazione e la tua documentazione collegate con le altre migliorano la consapevolezza di tutti ognuno porta la sua goccia e noi diventa una marea